Dottoressa Rosa Lampasona, riguardo le ultime informazioni che abbiamo letto in questi ultimi giorni e anche per quanto riguarda la circolare dell'unità di crisi regionale, ci può aggiornare su com'è la situazione del Covid Center, si parla di un potenziamento, di una riorganizzazione e addirittura di specialistiche che potrebbero essere attivate all'interno di questo reparto speciale, com'è la situazione? Per quanto riguarda la direttiva che parlavi poc'anzi, l'unità di crisi regionale ha deciso e detto che ogni azienda deve uniformare una chirurgia Covid. All'interno della nostra azienda si è pensato e si sta in queste ore valutando già da qualche giorno l'eventuale possibilità che il nostro Covid Hospital di Agropoli possa ospitare le chirurgie specialistiche Covid, per pazienti Covid, quindi sia per quanto riguarda un po' le chirurgie in generale, quindi chirurgia, urologia e tutte le problematiche chirurgiche che possono interessare i pazienti Covid, perché come sappiamo oggi non è solo, ci sono tanti pazienti che sono Covid, spesso con sintomi lievi o addirittura sintomatici, che per puro caso si trovano per altre problematiche chirurgiche all'interno di un ospedale e scoprono di essere positivi. Quindi questo problema sollevato non solo a livello nostro regionale, ma a livello anche nazionale, si è pensato di individuare dei luoghi idonei dove possono essere curati questi pazienti chirurgici Covid positivi. Negli ultimi giorni si sta pensando e valutando la possibilità che il nostro ospedale possa avere le caratteristiche di ospitare questi pazienti, poiché come già sappiamo da tempo è attiva funzionalmente, anche se non è attiva praticamente, le sale operatorie, nel senso che già sono provviste tutte le strumentazioni, abbiamo una colonna laparoscopica all'avanguardia e tavoli operatori già ben posizionati, quindi abbiamo già una sala operatoria che potrebbe essere attivata all'interno di questo nosocomio. Quindi queste valutazioni in queste ore alcuni tecnici individuati dal direttore generale stanno valutando le condizioni se il nostro ospedale possa essere l'ospedale prescelto per queste chirurgie, anche perché è un ospedale ormai che da 15 mesi facciamo Covid e quindi già abbiamo non soltanto eventualmente la possibilità di operare pazienti Covid positivi ma di trattarli anche nel posto operatorio, in quanto qualsiasi complicanza anche respiratoria abbiamo una terapia intensiva e subintensiva Covid. E quindi queste sono le valutazioni che si stanno facendo in queste ore e quindi nelle prossime ore sicuramente ci sarà una risposta ufficiale sull'individuazione che è stata già richiesta dall'unità di crisi regionale. Per quanto riguarda invece il pronto soccorso, resta ovviamente a parte oppure ci sarà la possibilità di attivarlo come pronto soccorso Covid proprio per andare a completare il reparto speciale? Questa è sempre una decisione che si sta valutando in queste ore, se lasciare un pronto soccorso o meglio un primo soccorso, specifichiamolo, non è un pronto soccorso ma quello che abbiamo ad Agropoli ormai da anni, è un primo soccorso, di lasciare o un primo soccorso per tutti i pazienti che vengono qui ad avere le prime cure o eventualmente a trasformarlo come è l'ospedale di Scafati che è un ospedale Covid come il nostro ed è un ospedale completamente Covid in quanto anche il pronto soccorso è un pronto soccorso Covid o lasciarlo nelle condizioni in cui questa è sempre una valutazione che si sta facendo in questi giorni, in queste ore per cercare di capire e di affrontare al meglio l'emergenza Covid che ormai è un'emergenza che come vediamo dei bollettini nostri territoriali e non solo è in continuo aumento, abbiamo continui aumenti di casi anche gravi, soprattutto gravi, parlo per il mio Covid ospedale nello specifico, il mese di dicembre ho fatto 27 ricoveri, tantissimi e ad oggi ho fatto 17 ricoveri, quindi abbiamo un turnover abbastanza rapido cioè i 13 posti hanno un'occupazione del 100%, attualmente ho 13 posti e ho 13 pazienti, cioè tutti i giorni c'è un turnover di pazienti continuo sia per quanto riguarda il mio reparto che il reparto del dottore Ielmi a media e bassa intensità, quindi l'occupazione dei posti è al 100%, questo significa che effettivamente abbiamo un'emergenza in atto e come è prevedibile i mesi invernali col freddo sono i mesi dove maggiormente si verificano casi di pazienti Covid Dottoressa, se tutto questo si confermasse, resta però la problematica del personale medico e infermieristico come si risolverebbe in tal senso, visto che ne abbiamo sempre parlato che c'è carenza di medici e infermieri Sicuramente i vertici aziendali nella scelta dell'apertura delle sale e operatorie, lì dove si verificherà e questo non lo sappiamo, lo sappiamo in questi giorni penso a breve anche sicuramente è normale che se si apre un nuovo reparto, quindi delle sale operatorie e un reparto chirurgico ci dovrà essere il personale adeguato, quindi parlo sia di personale medico chirurgico in questo caso che infermieristico, quindi è normale che i vertici aziendali si provvederà anche all'assunzione o allo spostamento di personale già in essere, queste sono scelte aziendali quindi verranno sicuramente, saranno già state valutate prevedibilmente visto che, come sappiamo, sono state bloccate tutte le attività chirurgiche in elezione programmata sono state, diciamo, chiuse le attività ambulatoriali, sempre quelle in elezione programmata salvo le urgenze e tutti i pazienti oncologici che comunque hanno un accesso logicamente primario, importante come un'urgenza tutto il resto è stato bloccato e di lì la nota regionale prevede e dice che tutto questo personale che con accorpamento anche dei reparti in essere ne venga spostato lì dove c'è l'emergenza urgenza, in questo caso la pandemia Covid quindi sicuramente le scelte direzionali saranno proprio queste o di spostare eventualmente il personale lì dove è in eccesso o le assunzioni eventualmente di personale adeguato nei reparti di nuova apertura Grazie. 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 Grazie.